Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento di questa sera con le lingue live durante il quale parleremo di romanticismo con tre colleghi del liceo San Carlo di Milano, con Andrea, con Silvia e con Chiara. Comincerà Andrea Beneggi, eccolo lì che lo vedo comparire, vedo comparire i miei compagni della prossima ora. Ciao Andrea, ciao Chiara e ciao Silvia. Buon pomeriggio. Andrea vi racconterà o vi introdurrà appunto al tema da un punto di vista e con un taglio storico, passiamo alla storia dell'arte con Chiara e Silvia raccoglierà un pochino le file e porterà avanti il discorso dal punto di vista invece dell'approccio letterario, letterario inglese in qualche modo rientra nel nostro argomento ed è un incontro sull'interdisciplinarietà. Lascio a loro la parola molto presto, anzi poi comincerà Andrea. Vi trattengo solo un minuto, anzi di meno, per dirvi che è possibile fare domande che le raccoglieremo nel corso del racconto e della lezione di Andrea, di Chiara e di Silvia che parleranno del tema del romanticismo per circa 40-45 minuti, abbiamo poi un quarto d'ora a disposizione per domande, curiosità, saluti e ringraziamenti. Quindi io ringrazio anticipatamente e passo la parola ad Andrea. Grazie mille Laura e buonasera a tutti. Allora io introdurrei il tema del romanticismo parlando del paesaggio, del paesaggio inglese, perché il romanticismo è appunto un grande movimento culturale che si sviluppa in tutta Europa e in Inghilterra, ma si sviluppa in un momento in cui, come ben sappiamo, si afferma la prima rivoluzione industriale e la prima rivoluzione industriale in particolar modo in Inghilterra ha modificato il paesaggio. Perché è importante tratteggiare questo evento storico, appunto la rivoluzione industriale e metterla in connessione con il romanticismo? Proprio perché il romanticismo pone l'accento, pone la sua enfasi sulla natura e lo fa in un momento in cui la natura forse per la prima volta nella storia è stata modificata, pesantemente modificata appunto dall'avvento dell'industrializzazione e questo è stato vero soprattutto per quanto riguarda il paesaggio inglese. Per cui quello che farò io nel prossimo quarto d'ora, venti minuti, sarà quello di tratteggiare appunto quali sono le tappe principali della rivoluzione industriale e soprattutto quali sono gli effetti che la rivoluzione industriale ha avuto sul paesaggio inglese. Un paesaggio inglese che credo che conosciamo tutti, che forse amiamo e che sicuramente amiamo tutti. L'immagine che vedete è un'immagine del Lake District, che è una delle zone forse rurali più belle di Inghilterra, celebrate numerosi poemi e romanzi appunto inglesi e diciamo che fino agli anni settanta del diciottesimo secolo il paesaggio inglese è rimasto sostanzialmente invariato, appunto un paesaggio fatto di campagne, di open fields, cioè di campi coltivati in comune dai villaggi, da parrocchie, da menors, da castelli e da monasteri. La modernità inizia a modificare il paesaggio delle campagne in realtà già a partire dalla metà del Cinquecento, quando Enrico VIII con l'atto di supremazia, oltre a diventare capo della chiesa d'Inghilterra, da governatore generale, no, capo della chiesa d'Inghilterra, abolisce monasteri e requisisce tutte le terre di monasteri. Monasteri possedevano la gran parte dei terreni agricoli inglesi e per la gran parte questi terreni dei monasteri erano lasciati alla Libra Quini. Perché questa è una prima modifica del paesaggio inglese? Perché queste terre requisite da Enrico VIII vennero poi vendute a importanti famiglie che fecero la loro ricchezza, la loro fortuna proprio con l'acquisto di questi terreni. Tra l'altro molte di queste famiglie sono ancora oggi vive vegete, ancora oggi godono di queste ricchezze che hanno accumulato nel corso appunto delle soppressioni dei monasteri. E cosa fecero? Cosa iniziarono a fare questi signori, questi nuovi proprietari terrieri, iniziarono a chiudere i campi, no? Cioè prese il via quello che, quel fenomeno famoso che è il fenomeno delle enclosures, cioè delle recinzioni. Quelli che prima erano campi aperti o comunque lasciati alla coltivazione di contadini e famiglie, no? Vengono adesso recintati, chiusi, no? E per, diciamo così, per 200 anni circa, questi campi chiusi vengono dedicati soprattutto all'allevamento di pecore per la produzione appunto della lana. E quindi questa è già una prima modifica, no? Della campagna inglese. Perché bisogna citare le enclosures? Bisogna citarle perché poi nel corso del Settecento le enclosures furono la base di quella, di una delle grandi premesse della rivoluzione industriale, che è la cosiddetta rivoluzione agricola. Che legame c'è? Cos'è la rivoluzione agricola? Cos'è accaduto? Che legame c'è tra le enclosures, la rivoluzione agricola e la rivoluzione industriale? Appunto, verso la metà del Settecento alcuni proprietari terrieri invece di utilizzare i loro campi recintati per allevare greggi di pecore, iniziano a usare i loro campi recintati per migliorare le tecniche agricole. Quindi nel corso, nella metà del XVIII secolo insomma abbiamo un grande miglioramento delle tecniche agricole, no? Con un conseguente aumento della produzione agricola. E questa rivoluzione agricola è una premessa fondamentale per capire la rivoluzione industriale. E per quale motivo? Perché la rivoluzione agricola, il cosiddetto, chiamato il sistema norfo, questo nuovo modo di, appunto, di coltivare le terre, no? Appunto questa rivoluzione agricola permise, per esempio, un aumento delle nuove culture, quindi un aumento dei beni di prima necessità, quindi un aumento, diciamo così, delle risorse per sostentare la popolazione. E questo porta a un aumento demografico, quindi un aumento demografico significa, ha significato che cosa? Ha significato un aumento della forza lavoro a basso costo. C'era molta più gente, no? Che non poteva più lavorare la terra, un po' perché le enclosures, appunto, toglievano, sottraevano il lavoro ai contadini, no? E' un po' appunto perché aumentava la popolazione grazie, no? Al miglioramento del tenore di vita, no? E quindi c'è una grande, c'è una maggiore disponibilità di forza lavoro a basso costo, no? Forza lavoro che poi entrerà a far parte, appunto, entra a lavorare nelle fabbriche. E dall'altra parte c'è, con un aumento demografico, ovviamente anche un aumento della domanda, della domanda di beni, no? E quindi questo è sempre uno stimolo alla, diciamo così, all'industria. Ecco, prima però di passare alla nascita della fabbrica vera e propria, vorrei fare un'altra considerazione sempre sul paesaggio inglese, perché ecco, proprio nel Settecento, anzi diciamo quasi a ridosso della rivoluzione agricola, assistiamo alla nascita di quello che è appunto conosciuto come l'English Landscape Garden, cioè in molte delle più importanti tenute, in questi palazzi, no? Di campagna, di queste grandi famiglie, no? Si ricostruiscono questi parchi, si costruiscono questi parchi. Questi parchi che fino alla metà del Settecento seguivano un po', diciamo così, l'architettura del paesaggio ereditato dal, diciamo così, dal rinascimento italiano francese, quindi non so se avete in mente, anzi sicuramente avete in mente i grandi giardini di Versailles, quindi quei parchi, quei giardini estremamente geometrici, molto rigorosi, no? Che al gusto inglese non piacevano tanto, perché agli inglesi piaceva appunto, come sempre è stato, piaceva appunto una visione diciamo così più naturale, no? E proprio appunto a ridosso della rivoluzione industriale nasce l'English Landscape Garden, cioè questa disciplina, diciamo così, quasi architettonica per cui grandi giardinieri, William Kent, Lancelot Capability Brown, no? Ridisegnano i parchi, no? Creando, ma in maniera artificiale, un paesaggio naturale, no? Appunto, il giardino all'inglese, che sembra un giardino assolutamente lasciato a se stesso, un giardino insomma in cui la natura cresce libera e selvaggia, in realtà non è così, perché in realtà, perché appunto questi giardini sono accuratamente disegnati, pensati, per sembrare appunto naturali, ma non lo sono. Tra l'altro, ma qui credo che tutti voi lo sappiate anche meglio di me, il termine inglese Landscape, no? Paesaggio deriva proprio da un termine artistico, no? Il paesaggio artistico, il quadro, no? Il paesaggio naturale dipinto, no? Proprio per sottolineare questa connessione, no? Tra un paesaggio che in realtà non è naturale, ma è artificiale. Ecco, rivoluzione agricola, no? E dicevamo, quindi aumento della popolazione, aumento della disponibilità di forza lavoro, aumento della domanda, dall'altra poi ci sono le condizioni storiche caratteristiche appunto della Gran Bretagna di quell'epoca, per cui grande disponibilità di capitali, grande disponibilità di materie prime, sia in loco la Gran Bretagna ha risorse come il carbone appunto, come i numerosi corsi d'acqua, no? Che vengono poi utilizzati, lo vediamo, per le prime macchine, per le prime fabbriche, ovviamente le colonie, soprattutto l'India, no? Dall'India arrivavano derrate di cotone e greggio che poi veniva lavorato nell'industria, insomma c'è tutta una serie di fattori che rendono possibile proprio nella Gran Bretagna, diciamo così, a partire dal 1760, l'avvio di quella che è appunto la rivoluzione industriale. E intorno al 1760 abbiamo appunto la nascita della fabbrica. Allora le fabbriche, diciamo così, durante la rivoluzione industriale in Inghilterra si occupavano di due ambiti fondamentalmente e cioè da una parte il settore tessile, la lana ma ancor più il cotone, no? Il cotone è stato il vero motore della rivoluzione industriale inglese, proprio perché c'era grande disponibilità di cotone che arrivava, di pezze di cotone che arrivava dalle colonie inglesi e dall'altra il settore metallurgico vero e proprio, quindi il ferro, l'estrazione del carbone, già dicendo. Allora le prime fabbriche nascono, quando nascono, usando soprattutto l'energia idrica, l'energia dell'acqua. E infatti quando nascono le prime fabbriche, diciamo così, non c'è subito un, come dire, un impatto ambientale, perché appunto l'energia era quella idraulica e quindi si cominciano a modificarsi, cioè cominciano a nascere questi complessi innovativi che non esistevano prima, cioè questi grandi ambienti in cui delle macchine venivano riunite tutte insieme, in cui appunto c'erano delle persone che invece di lavorare da casa i prodotti che gli passava al proprietario andavano a lavorare in fabbrica. Ecco, però queste prime fabbriche appunto, queste prime fabbriche non avevano un grande impatto ambientale, diciamo così, perché appunto come ogni rivoluzione, come dire, prima di far sentire i propri effetti ci volle molto tempo. Tra l'altro queste prime fabbriche vennero costruite non nelle città ma in zone isolate, quindi era anche, come dire, non immediata la loro percezione, non era immediato percepirle. In zone isolate perché? Perché venivano costruite dove c'erano i corsi d'acqua fondamentalmente, che potevano essere utilizzati appunto per la loro, per sfruttare la forza idraulica. Quando comincia ad avere la rivoluzione industriale un impatto sul paesaggio? Beh, quando viene introdotta la macchina a vapore. Voi sapete la macchina a vapore venne inventata da James Watt e la macchina a vapore venne applicata inizialmente non ai trasporti, ma venne applicata appunto alle macchine tessili. Questa è la prima applicazione della macchina a vapore. Ora, la macchina a vapore ha bisogno, per funzionare bene, di carbone, perché il carbone brucia, brucia bene e quindi fornisce il calore necessario per il funzionamento corretto della macchina a vapore. Quindi con l'introduzione delle macchine a vapore ecco che aumenta anche la richiesta e la produzione del carbone. Il carbone diventa la fonte di energia principale della rivoluzione industriale. E col carbone iniziano i guai, perché i guai nel senso, i guai dal punto di vista dell'impatto appunto sul paesaggio e sull'inquinamento, perché appunto il carbone inquina. E inquina a maggior ragione nel momento in cui viene, diciamo così, sviluppato l'utilizzo di un carbon fossile, del famoso Coke, appunto che è un carbon fossile che ha un potere, si dice, calorifico immensamente maggiore del carbone naturale. Quindi il carbon fossile poi permette, l'utilizzo del carbon fossile permette anche da una parte appunto sempre il lavoro, sempre la possibilità di fornire energia ai tessifici industriali, ma dall'altra apre la strada alla costruzione degli altiforni. Gli altiforni erano queste grandi fabbriche dove più che la produzione tessile appunto si concentravano sulla produzione del ferro, dell'acciaio, della ghisa che hanno bisogno di elevate temperature per fondere. E con gli altiforni, ecco che qui avete un'immagine del cosiddetto black country, ecco che la fabbrica diventa, come dire, un segno distintivo del paesaggio rurale inglese, segno distintivo nel senso che è una presenza fisica ingombrante con queste ciminiere che rilasciavano nell'aria no? Odori, come dire, gas, no? E appunto annerivano il paesaggio, no? Il black country è una zona specifica dell'Inghilterra che si trova nelle Midlands occidentali e si chiamava così proprio per la patina di, non solo perché erano presenti numerose miniere di carbone, ma anche perché appunto le fabbriche, no? Avevano, lasciavano sul terreno una patina quasi, no? Di nera, di carbone, no? Che diede il nome al paese, no? Dicono le cronache, poi non sappiamo quanto siano attendibili che quando la regina Vittoria passava col suo treno per il black country ordinava di chiudere i finestrini per evitare di venire soffocata, no? Ecco che quindi la fabbrica inizia ad impattare sul paesaggio, avere un impatto significativo sul paesaggio, no? Sul paesaggio inglese. Assieme alle fabbriche poi ovviamente nascono i villaggi operai, no? I vari slums perché intorno alla fabbrica poi normalmente, no? I padroni in queste fabbriche poi davano alloggio agli operai, no? Quindi nascevano veri e propri villaggi operai, oppure villaggi che prima erano dediti alla pesca o al piccolo artigianato diventano grandi città industriali. Il caso più eclatante è quello di Liverpool o di Manchester, no? Manchester passa da 30.000 a 400.000 abitanti nel giro di un cinquantennio. Ecco che quindi la rivoluzione industriale cambia la fisionomia non solo della campagna ma anche delle città, no? Che cominciano a crescere in maniera ipertrofica e cominciano a nascere i primi veri grandi quartieri operai. Quello che vedete è una foto di questo cotonificio appunto e col quartiere operaio che gli sorge intorno, no? Anche questa uniformità, no? Poi di questi quartieri operai che era estremamente spersonalizzante. E assieme alla rivoluzione industriale, assieme alle fabbriche, no? Alla nascita delle fabbriche poi nascono tutta una serie di infrastrutture che anche queste, no? Modificano il paesaggio e portano, diciamo così, nel paesaggio il sapore della modernità sia in senso negativo che in senso positivo. Per esempio, no? Nell'Inghilterra di fine Settecento iniziano a essere costruite, prima ancora che le ferrovie, le vie d'acqua, dei canali d'acqua artificiali, perché i canali d'acqua erano le vie più rapide ed economiche per il trasporto delle merci, del carbone, dei prodotti finiti, no? Per esempio vengono costruiti i canali d'acqua tra appunto Manchester e Liverpool o tra Londra e i dintorni, no? Quello che vedete si trova in Galles, non ci provo nemmeno a pronunciarlo perché appunto il nome è un nome gallese, quindi lascio la pronuncia alle persone competenti, no? Ed è appunto un acquedotto, no? Anche qui vedete un acquedotto che viene costruito tra il 1795 e il 1805, quindi anche qui si capisce bene, no? Come queste nuove infrastrutture, no? Segnassero il paesaggio con delle novità inimmaginabili, prima appunto questa via d'acqua aerea, oggi è più che altro una attrazione turistica. E assieme ai canali ci sono poi altre grandi infrastrutture, l'epoca della rivoluzione industriale è l'epoca del no? Del trionfo dell'ingegneria, no? E ci sono i grandi ingegneri vittoriani, qui viene citato Isambard Kingdom Brunel che fu uno dei più importanti ingegneri di quest'epoca. Brunel è famoso perché ha costruito, ha aiutato a costruire, a progettare il primo tunnel sotterraneo che passava sotto il Tamigi, no? Perché sul Tamigi, prima di costruire gli altri ponti, oltre al London Bridge, no? Vennero costruiti, no? Dei sottopassaggi, no? E ci voleva una grande perizia tecnica per farlo, no? E la rivoluzione industriale diede, fornì l'intelligenza, i mezzi e gli uomini per queste imprese. Ma ancora più, come dire, evidenti nel paesaggio sono le opere come questa, come i ponti sospesi, questo è il Clifton Suspension Bridge, sempre di appunto di Brunel, no? Che se non sbaglio ha un'altezza di circa 70 metri perché attraversa un alto braccio di mare, insomma. E anche qui capite che l'impatto, no? Che questa modernità aveva sul paesaggio, no? Questa modernità assolutamente invadente. Un altro ingegnere che qui non ho citato, cioè non ho scritto sulla slide, è Joseph Baselgett, famoso per aver ricostruito il sistema fognario di Londra, ma poi su questo ci torniamo brevemente dopo. E poi ovviamente forse il simbolo della rivoluzione industriale è appunto la ferrovia. perché la rivoluzione industriale impose delle esigenze di trasporto che spinse appunto ad un'innovazione dei mezzi di trasporto. La rivoluzione industriale porta con sé una rivoluzione vera e propria dei trasporti, no? Perché appunto nasce il treno, nasce la ferrovia e la ferrovia che appunto porta con sé stazioni, porta con sé gallerie, porta con sé ancora una volta ponti. Poi vedremo rapidamente su Londra come la ferrovia modifica ed entra dentro la città appunto. Oltre alla ferrovia c'è la nascita anche dei piroscafi, no? Della nava a vapore, anche se la nava a vapore che prende il sopravvento sul grande vegliero in realtà si afferma molto più lentamente che la ferrovia, che il treno. Si afferma più lentamente perché in realtà i famosi clippers, questi veglieri molto veloci, uno dei più famosi, o meglio ce n'è uno a Londra, il Cattisar, sicuramente qualcuno di voi l'avrà già visto, l'avrà visto e ancorato a Greenwich, no? Questi erano, i clippers erano questi veglieri molto veloci, molto rapidi che insomma rallentano comunque, contendono ai nuovi piroscafi le rotte atlantiche fin quasi all'inizio del novecento. Quindi mentre il piroscavo ci mette un po' di più ad imporsi come mezzo di trasporto, il treno diventa immediatamente il mezzo di trasporto ideale, sia per le merci che per le persone. E qui arriviamo a a Londra, qui scusate ho sbagliato, la data è Londra 1975, in realtà 1795, questa è una mappa della città appunto alla fine dell'Ottocento. Perché parliamo di Londra? Vediamo un secondo il caso di Londra, perché oltre alla campagna inglese che si modifica, oltre all'arrivo appunto alla costruzione dei canali, alla costruzione delle ferrovie, alla nascita come funghi di queste fabbriche nelle campagne o nelle città del nord, Manchester, Liverpool, Birmingham e via dicendo, è ovvio che anche Londra, la capitale dell'impero, viene investita dalla rivoluzione industriale. C'è una modificazione impressionante della città, appunto questa è Londra nel 1795, adesso giusto per darvi due coordinate perché la cartina forse è un po' piccola, ma questa è la torre di Londra, questa zona che vedete segnata dai confini rossi è la city, mentre questa zona qui, questi sono i giardini di St. James, qui sorgerà Buckingham Palace, questa è la zona di Whitehall, di Westminster, quindi quello che oggi è proprio il centro del centro di Londra. Vedete che poi per il resto, pur essendo una città densamente abitata per l'epoca perché aveva già un milione di abitanti intorno al 1800, però vedete che poi per il resto era la campagna che entrava dentro la città. Guardate in particolare questa zona qua, la zona a est appunto della torre di Londra, quello che sarebbe da lì a poco diventato l'E-Stand, cioè il quartiere operaio, che è questo. Qui siamo in una cartina più o meno di un cinquantennio d'anni prima, ma non molto è cambiato, qui vedete la torre di Londra e questo è l'E-Stand. Vedete che l'E-Stand è ancora un piccolo sobborgo circondato, anzi immerso dentro i campi, quel grigio che vedete, sono tutti i campi. L'E-Stand diventa poi con l'industrializzazione il quartiere operaio di Londra, perché? Perché nell'E-Stand, l'E-Stand si affaccia ovviamente sul Tamigi e su quella zona del Tamigi vengono costruiti i docks, cioè questi grandi bacini artificiali in cui arrivavano navi da tutto l'impero britannico scaricando dei loro merci, quindi lì che nasce l'E-Stand, è lì che nasce il quartiere operaio. Questo è l'E-Stand nel 1745, questo è l'E-Stand nel 1882. Se notate, nel giro di poco meno di 100 anni, il quartiere operaio cresce in maniera ipertrofica. Cresce in maniera ipertrofica e si porta con sé tutti i disagi tipici del quartiere operaio che tutti conosciamo avendo letto Dickens. Questa cartina ci dà la misura, ci dà l'immagine visiva veramente di come Londra e l'E-Stand londinese fosse diventato una città nella città. Una città nella città che fino agli anni 30-40 del Novecento era una zona assolutamente malfamata, era una zona di estrema povertà. Appunto è nell'E-Stand, se vogliamo, che avvengono gli efferati omicidi di getto squartatore. Cioè è proprio quella una zona considerata davvero una zona di degrado. E quindi ecco un altro portato della rivoluzione industriale è che i poeti, i letterati, i pittori dell'Ottocento si trovano a confrontarsi. Cioè un degrado anche ambientale e umano che penetra fin dentro le città. Allora è in questo contesto che va collocato il romanticismo. Cioè la riflessione romantica sulla natura non può essere capita fino in fondo se non si tiene conto del fatto che l'Inghilterra, Londra, negli stessi anni in cui vivevano poeti, artisti, letterati, romantici, no? Stava entrando una modernità industriale. Abbiamo fatto una panoramica appunto storica di industrializzazione che io credo appunto sia necessaria per comprendere quello che le mie colleghe adesso vi diranno. Lascio quindi la parola alla professoressa Chini. Grazie a tutti. Grazie perché effettivamente chi insegna inglese come noi ha una fortuna grande, quella di avere la possibilità di avere un viaggio letterario in tutto quello che il professor Beneggi ha spiegato in questi 15 minuti. Noi abbiamo la fortuna di avere il preface delle lyrical ballads. Di solito questo si salta in classe però davvero leggerlo è un'esperienza, è un'esperienza bella per noi e per i nostri ragazzi perché il preface è un manifesto, il preface è una guida per la scrittura, il preface è una transizione, cioè segna il periodo di transizione tra il prima e il dopo, esattamente tutto quello che ha spiegato il prof Beneggi poco fa. Fa nuove tutte le cose, parla di una poesia, di uno stile di vita che prima erano considerati diciamo poco raffinati, ridà dignità a tutta una serie di componimenti che avevano già preso piede alla fine del XVIII secolo. Pensiamo alla ballata, la ballata che nasce nel Medioevo, poi a un periodo di decadimento, poi viene ripresa e viene ripresa anche oggi, è bellissimo vedere come la musica che ascoltano i nostri ragazzi, le canzoni che ascoltano i nostri ragazzi abbiano per tanti versi le stesse caratteristiche di ciò che i romantici hanno scritto in questo periodo. E fa nuove tutte le cose, dicevo, fa nuova la poesia, ci parla di queste incidents of common life, finalmente questa vita comune, vita normale, humble and rustic life. Quindi questo paesaggio, questa vita, solo in questa modalità riesce a far esprimere le passioni del cuore, parla della lingua che è la lingua veramente usata dalle persone comuni, si parla di persone comune e di una lingua usata da loro. E quindi esattamente per usare le parole di Wordsworth in questa citazione che ho voluto mettere in questa slide, parlare dell'ordinario in maniera straordinaria, con questa pennellata di immaginazione. Ed è una cosa attualissima, vedere l'ordinario come straordinario. Adesso tutti noi abbiamo in mente quando siamo riusciti di nuovo a poter fare alcune cose dopo la zona rossa, dopo il lockdown, è fare dell'ordinario lo straordinario. E così esattamente anche con la figura del poeta, il poeta che crea, il poeta che si concentra su questa idea di spontaneità, la spontaneous overflow of powerful feelings. C'è talmente tanta passione, emozione, poesia dentro il poeta che addirittura fuoriesce. Overflow è questo verbo che noi usiamo per parlare di qualcosa che tracima. Quindi questa idea di naturalezza, questa idea di passione, di semplicità e quella necessità di provare emozioni di fronte alla natura. E ancora una volta cosa di più attuale che questa affermazione. Mi vengono in mente tutte le immagini che sicuramente abbiamo visto tutti quanti al telegiornale, della natura che si riprende i suoi spazi. Durante il primo lockdown ci facevano vedere gli animali di nuovo nelle città e cose di questo tipo. E a tutti noi queste immagini hanno strappato un sorriso, hanno strappato un'emozione. È proprio questo, la necessità di provare emozioni anche di fronte alla natura. Davvero una cosa che più attuale non potrebbe essere. E Wordsworth è così, è un innovatore, è un innovatore potente. E questo la dice lunga anche sull'attualità dei suoi scritti. Nel link che vi ho messo qua in fondo alla slide potrete ascoltarlo con calma al termine di questo webinar. C'è un lungo podcast della BBC che non è di dieci anni fa, è proprio di poco tempo fa, che riprende le lyrical ballads, in particolare questo brano, in tutta la sua attualità. Quindi veramente il romanticismo ha lasciato tanto anche a noi, anche adesso. E vi dicevo appunto che Wordsworth è un innovatore nei suoi contenuti e nel suo modo di scrivere. La sua poesia ci offre uno spaccato della relazione tra uomo e natura, che questo tema è un buon trampolino di lancio anche per poi passare a parlare dei trascendentalisti americani. Non avremo qui il tempo, ma tutta la relazione uomo-natura anche dei trascendentalisti americani. Ma comunque il tema pregnante delle sue poesie, il tema principale delle sue poesie è questa relazione uomo-natura, il fatto che l'uomo e la natura siano inseparabili. E la natura e il paesaggio, esattamente come ci diceva il professor Beneggi prima, la natura e il paesaggio sono due elementi chiave per tutto quello che la Gran Bretagna e l'Inghilterra sta attraversando. E quindi tutti i poeti della prima ora, seconda ora, prima generazione, seconda generazione, tutti hanno qualcosa da dirci sulla natura. specchi d'acqua, colline alberate, abbiamo visto, è un'immagine molto simile a quella che avete visto nella prima slide, le brughiere verdeggianti, ogni poeta ha lasciato la sua idea di natura. Pensiamo alla fonte di gioia di Wordsworth, quando guarda le sue dafode, oppure nel titolo addirittura della poesia My Heart Leaps Up, quindi il mio cuore gioisce, la natura è fonte di gioia, la natura come forza universale di Coleridge, la natura come la natura consolatrice di Byron, la natura come guida per Shelley, pensiamo a Ode to the West Wind, quindi tutto cambia, oppure la natura dispensatrice di benefici di Keats, a me piace tantissimo ricordare e citare sempre la poesia che lui ha scritto nel 1817, quando si trovava sull'isola di White, Ode to the Sea, il mare si fa da tramite, il mare per conto della natura tutta porta consigli e benefici. E quindi tutto parte e tutto torna alle righe di Wordsworth, alle righe del Preface, spesso, come diceva anche il professor Beneggi poco fa, come alternativa alle sempre più industrializzate città. E questo ci lascia non solo una consapevolezza più alta del paesaggio, non solo lascia parchi nazionali che addirittura diventano patrimonio nell'UNESCO del 2017, ci lascia proprio un'idea di natura, un'idea del guardare oltre, c'è qualcosa, non è solo un posto da sfruttare. Noi potremmo parlare delle poesie di questi cinque autori per ore, però vorrei soffermarmi un attimo su ciò che ci hanno lasciato, su quella che è l'eredità del romanticismo. È un'eredità grossa, è un'eredità che si vede nella vita di tutti i giorni. Magari basta solo affinare l'occhio ma si vede. Perché dico questo? Perché a volte la natura ed il paesaggio diventano la base di un'identità nazionale. Non è un errore di battitura al titolo di questa slide, ma è voluto. Il modo in cui Scott nelle sue poesie presenta il paesaggio scozzese, il modo in cui presenta la sua storia, il modo in cui parla del profondo legame tra le due parti, quindi tra la storia e il paesaggio darà vita a un senso di identità nazionale. Molto spesso io chiedo ai ragazzi, vi ho copiato qui una domanda che spesso faccio in classe, noi abbiamo questo legame col nostro paesaggio, questo fa, il paesaggio è parte della nostra identità nazionale, qualcuno dice no, qualcuno dice sì, qualcuno nomina le coste, qualcuno le dolomiti. Diciamo che è una relazione un po' diversa perché Scott non solo parla del suo paesaggio, fa di più, invita le persone, invita i lettori, come nella citazione che vi ho messo qua nella slide, a visitare i luoghi come per esempio appunto l'abbazia di Melrose al chiaro della luna, esattamente come scrive lui, nella sua poesia The Lay of the Last Minstrel. È una poesia pubblicata nel 1805, dove per molti versi si rappresenta tutto ciò che il romanticismo ha da offrire, ancora una volta si parte e si torna al preface di Wordsworth. Scott ci racconta la storia di un menestrello che visita la casa di questa duchessa e porta i lettori di fatto in un viaggio tra storie, antenati, paesaggio e questo cementa e questo mette le fondamenta per un'identità nazionale basata sul paesaggio, basata anche sul paesaggio. Ed ecco la sua terza lunga poesia narrativa che Scott di fatto cementa la sua relazione con il paesaggio scozzese. Qui descrive la regione del lago Catherine, quello che state vedendo nelle immagini di questo video. La poesia è stata veramente un enorme successo, ha portato masse di turisti a vedere questa regione. Potrei immaginare la faccia di Wordsworth pensando alle masse di turisti partite dopo il successo di una poesia per andare a visitare quei luoghi, ma è successo anche di più, è successo che molti artisti richiamati dal successo di questa poesia si siano recati in questi luoghi per dipingere, immortalare il paesaggio e questo ha fatto da cassa da risonanza, questo ha aumentato ancora di più la nomea di questi luoghi. Di fatto è nato il turismo scozzese e adesso, l'avete visto, adesso sicuramente è un'attrazione turistica e tutti noi quando viaggiamo cerchiamo di andare oltre quelli che sono i percorsi turistici. Però mi piace pensare che considerare ciò che uno stato, un paese sponsorizzi, metta in primo piano, è proprio un cercare di capire cosa forma la propria identità nazionale. Quindi sicuramente questo connubio Scozia-Scott è indissolubile e questo si può dire per tantissimi altri paesi, mi viene in mente gli Stati Uniti quando parliamo di Manifest Destiny, mi viene in mente la Svizzera, se voi pensate ai cantoni Uriunt, a Valden e tutta la storia di Guglielmo Tell. Il paesaggio molto spesso è parte integrante se non fondante dell'identità nazionale e questo ci viene dal romanticismo, questo di nuovo ci fa tornare alle parole di Wordsworth. Le parole di Wordsworth ci aiutano anche a capire che dietro la natura c'è qualcos'altro, non è solo la foglia, l'albero piuttosto che un elemento naturale, ma c'è dell'altro e questo oggi è davvero un tema molto attuale. Pensiamo a tutte quelle manifestazioni che pongono al centro adesso l'ambiente, certo magari un po' strumentalizzate, ma è quello, è il capire che dietro ci sta qualcosa. Pensiamo alla discografia di tanti artisti, pensiamo alla musica, nelle canzoni degli ultimi vent'anni la natura, il cambiamento, la natura comunque la fa da padrone insieme ai soliti altri temi della musica. Io adesso qui ho scelto Big Yellow Taxi, ma è solo un esempio. Si può lavorare con tantissime canzoni che mettono al centro l'andare oltre, oltre il paesaggio, oltre la pianta, oltre il fiore, esattamente come faceva Wordsworth con le sue daffodils. Ma tutto questo interesse per l'andare oltre, per la natura, per il paesaggio, per la vita nella campagna e la vita immersi nella natura ha ispirato anche scrittori contemporanei. Io vi ho messo solo un paio di titoli che adesso sono molto conosciuti. Il primo sicuramente sarà noto a tutti quanti, la storia di Chris, che decide di andare nel nulla. Per noi insegnanti d'inglese è molto bello scoprire il contenuto del suo zaino, perché il contenuto del suo zaino è un contenuto romantico e trascendentalista, quindi ci aiuta a comprendere un concetto altro di natura. Un concetto che ancora una volta può essere ricollegato alle parole del preface. E l'altra, Into Thin Air, è un altro romanzo molto più semplice da leggere, se vogliamo, che ci porta direttamente all'interno della prima spedizione commerciale sull'Everest nel 1996. E qui la natura sprigiona proprio tutta la sua forza. È un po' come rivedere Coleridge nel presente. Qui i nostri ragazzi, o comunque i lettori, hanno la possibilità di vedere la natura come forza, vedere la natura come elemento vivo, che decide della sorte di chi le va incontro o contro. E quindi è un tema assolutamente attuale. Quelle righe scritte così tanto tempo fa in un contesto di mutamento, esattamente come il professor Beneggi ci ha spiegato prima, sono più che mai attuali e più che mai riutilizzabili per rileggere le nostre esperienze, esperienze quotidiane. Non è solo nella letteratura, come vi dicevo, accennavo alle canzoni, è un po' in tutto il comparto artistico che il romanticismo ha lasciato una traccia. Qui vi ho messo solo una citazione di un saggio molto interessante che prende in esame la relazione tra Walt Disney e il romanticismo. Walt Disney ha cercato, esattamente come leggete in questa citazione, di mettere sullo schermo quello che Coleridge, Shelley, Keats, Worsworth consideravano veramente importante. Lui ha cercato di andare oltre la natura, di far vedere che la natura ha un altro lato, non è, come dicevo prima, solo la foglia piuttosto che l'albero. Il primo video tratto da Pocahontas è un video che io uso sempre in classe. C'è Pocahontas che chiede, ma tu hai veramente mai provato a colorare coi colori del vento, ad ascoltare la musica della natura, a nuotare con gli animali? Oppure il secondo, il secondo se volete è un po' più da ridere, è un po' più ludico, però ci fa capire come ci sia un mondo oltre quello che vediamo noi della natura. Oppure il terzo esempio che vi ho messo qui, il paesaggio diciamo post-apocalittico, sono le prime scene di Wall-E. Tutto ci fa comprendere come i romantici intendessero la natura e come ancora questo tema sia estremamente attuale. Ma allora, la domanda grossa che ci rimane è, è possibile trovare un punto d'incontro tra uomo e natura? È possibile trovare, sì, un punto d'incontro, un tratto comune? Per riassumere a livello letterario tutto quello che il professor Beneggi ci ha detto prima, ho scelto due poesie. La prima è una poesia che ci porterebbe a dire no, non esiste un punto d'incontro, non è possibile. La linea del treno proposta, quella a cui Worsworth si riferisce, è stata proposta nel 1844, poi è stata realizzata nel 1947 e lui si è opposto con tutte le sue forze, perché la ferrovia avrebbe rovinato il suo amato Lake District e le ha fatte tutte, veramente ha scritto lettere su lettere ai vari giornali, ha scritto proteste, eccetera, eccetera. Ha fatto qualcosa che prima di lui nessuno aveva mai fatto, ha scritto una poesia sul tema in oggetto. E la poesia non è solo una lamentela di un vecchio poeta che non vuole la ferrovia nel Lake District, la poesia è proprio quel luogo dove il poeta si fa portavoce della natura. Worsworth qui parla a nome della campagna, a nome degli animali, a nome delle piante che lì ci vivono. Quindi lui si fa portavoce e quasi come un monito o una minaccia, a seconda di come la si legge, alla fine di questa poesia lui dice, beh, se l'uomo non riuscirà a fermare la ferrovia, e allora ci penserà la natura, si ribellerà. Quindi leggendo questa poesia sembra che un connubio non si possa trovare, un punto d'incontro non ci sia. Leggendo però un'altra poesia, forse uno spiraglio ci rimane. Nel senso che stando su un ponte, quindi una cosa assolutamente artificiale, che oggi vediamo esattamente come nel video che state vedendo, quindi confusione, turisti che fanno le fotografie, gente che mangia, gente che corre, traffico, eccetera, lui stando su questa struttura artificiale, sovrastando il fiume, il Tamigi, quindi elemento preponderante naturale della città di Londra, tanto importante da essere personificato nella poesia, sembra trovare un punto d'incontro. In questo momento è l'alba, quindi le fabbriche dormono, la gente non è ancora sveglia, pensate alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, anche nelle nostre città. In questo momento esiste un connubio tra la natura e l'uomo, tra la natura e la città. La luce invade le strade, la luce si riflette sulle cupole. Quindi forse uno spiraglio c'è. C'è un connubio uomo-natura, c'è un punto d'incontro, e resta compito nostro, raccogliendo l'eredità del romanticismo, cercare di portare avanti questo punto d'incontro, per far sì che non sia la città a invadere la campagna, non siano le fabbriche a invadere il verde, come è successo un po' durante la rivoluzione industriale in Inghilterra, ma si riesca a trovare un punto d'incontro. E su questo punto d'incontro io lascio la parola alla professoressa Gadia. Sì, buonasera a tutti. Ecco, faremo una brevissima carrellata, visto che il tempo stringe, ma vorrei recuperare proprio degli spunti per far lavorare ai ragazzi su alcuni grandi temi appunto del romanticismo in arte, e con la possibilità di creare come dei legami con l'attualità. Ecco, questa sorta di wedding cake, così è stata definita la magnifica Strawberry Hill House, progettata, voluta e descritta in un testo prezioso da Horace Walpole, questa splendida casa, è in stile neogotico. Ma l'aspetto, perché partiamo da qui, da un esempio di questa architettura? Perché molti storici dell'arte hanno voluto vedere in questa scelta di Walpole, cioè poteva decidere di prendere a modello per la propria residenza la classica villa palladiana che veniva usata e che era una scelta come dettata dalle regole architettoniche del periodo, ecco, invece Walpole decide di crearsi una sorta di castello neogotico con le guglie, pinnacoli, le torri, la torre che svettano. Ed è il segno proprio di questa nuova consapevolezza di una libertà di stile, una libertà di stile che vedremo caratterizzerà i grandi artisti romantici. Scegliere stili come in questo caso che riprendono la tradizione ma che creano qualcosa di innovativo perché è reso personale dall'artista e dalla funzione che l'edificio ha, insomma, tutto questo dice dell'originalità di questo periodo storico-artistico. Un altro esempio di architettura neogotica è il famosissimo Palazzo di Westminster. Allora, Barry e Pugin ipotizzano la ricostruzione, anzi, Pugin stesso, con molto ardore, nel momento in cui si dovrà scegliere quale tipo di progetto verrà utilizzato per la ricostruzione del Palazzo del Parlamento inglese a seguito del terribile incendio che dopo vedremo brillantemente descritto da Turner in uno dei suoi dipinti più famosi, incendio del 1834, ecco, Pugin si batterà perché venga scelto questo stile neogotico. Perché? Ma perché, ce lo dice lui, cioè ci dice che incarna il concetto puro di architettura, è espressione della vera fede inglese, il cristianesimo, che sta alla base delle tradizioni inglesi, e incarna proprio il genio del popolo inglese, perché il gotico Ranoian era proprio un tipico della cultura inglese medievale e allora per ricostruire l'antico edificio medievale con una grande tradizione non solo storica, non solo iconica dell'immagine della città di Londra, del cuore della città di Londra, ma anche legata appunto alla vita politica inglese, per un breve tempo sede anche del monarca, ma poi sede del Parlamento e quindi, come dire, la tradizione che viene ripresa ancora una volta in modo originale e particolare. Viene ricostruito, non mancano appunto le torri, poi viene, mi sembra, diventata un'icona, una nuova icona, la Clock Tower, poi dedicata alla regina Elisabetta nel 2012. Insomma, vi è la rinascita a partire da uno stile che viene rivissuto e riproposto. Lo stimolo da proporre ai ragazzi sono, secondo me, anche perché è un aspetto che li affascina molto, è quello del legame con queste nuove costruzioni, che tendono a svettare verso l'altro. Le torri che abbiamo visto, neogotiche, questa libertà inventiva, questa libertà inventiva, si vede in incredibili costruzioni. Tutti conoscono le torri Petronas di Pelli o il Buri Khalifa Dubai. Ma ciò a cui riportare ai ragazzi è proprio il chiedersi che legami hanno queste nuove costruzioni che possono anche vedere nelle loro città. Io, presente, sempre di Pelli, abbiamo tutti presente a Milano tutta la zona della torre Unicredit e di Porta Nuova. Allora, che differenza c'è tra la torre neogotica e gli skyscrapers? E poi, interessantissima, è l'affermazione di Pelli in cui dice che è importante ripensare agli edifici come in rapporto al luogo in cui vengono creati. Per cui, per esempio, per le torri Petronas che sfidano con la loro impressionante altezza, 452 metri, certo, e niente contro gli 828 del Buri Khalifa, però queste torri vengono pensate partendo da una pianta che richiama un simbolo musulmano. C'è la stella a otto punti che poi viene rivisitata e rivista in diverse culture, però questo rapporto tra la città e la cultura insomma si cerca di riprenderlo anche in età contemporanea. Scusate, corro, ma la pittura visionaria di William Blake. Ecco, un altro aspetto rivoluzionario. William Blake non viene compreso al suo tempo, viene piuttosto isolato, forse perché anche desiderava isolarsi, è assai singolare queste porte della percezione se venissero effettivamente aperte, poi c'è il gioco delle porte che i ragazzi assolutamente mi fanno notare, però come c'entra con Jim Morrison? Certo, sono i doors, ormai per loro sono un po' antichi, però ormai ci ritornano anche nel loro interesse. ecco, queste porte se si aprissero ci potrebbero spalancare verso davvero una visione infinita, una visione infinita perché l'uomo, l'uomo della rivoluzione industriale, l'uomo del progresso, l'uomo del quell'uomo che ha fatto talvolta come proprio Dio, come proprio divinità la ragione e la propria capacità deve tenere presente anche di tutto ciò che è l'uomo, che è il fatto di desiderio, che però ingloba anche la carne e lo spirito, per cui c'è tutto un mondo legato alla visione, legato all'immaginazione che l'uomo dopo l'illuminismo ha bisogno di recuperare e come in pittura e in arte e nelle sue bellissime incisioni, quindi gli illuminated printing, incisioni che poi vengono realizzate e studiate in un modo singolarissimo, realizzate scusate e finiti e dipinti in modo singolarissimo, per cui lui pensa a un'incisione in rilievo e non a un'incisione in incavo, per cui è interessante anche la tecnica che sceglie per fondere insieme il testo delle proprie poesie e le opere, le miniature che vengono appunto dipinte ad acquerello. Qui vi è un altro rimando ancora, ricordiamoci, l'arte è il rapporto con la produzione industriale, per cui a metà secolo si vedrà l'esperienza di Morris dell'Artencraft e la nascita del design, perché l'uomo ha bisogno di bellezza e ormai come nel romanticismo questo è evidente, una bellezza che appunto vuole occuparsi di diversissimi spazi, di diversissimi linguaggi. Ecco, questo linguaggio di Blake dell'incisione in rilievo e poi della pittura delle singole stampe è una soluzione particolare, espressione del suo io, della sua persona, certo, senza fare un confronto legato all'abilità tecnica, però è interessante far vedere ragazzi come nel 2019 un artista di strada Jim Vision realizza a Manchester questa Tiger incredibile e per richiamare riportando giù in basso proprio sotto il muso dell'animale il testo della poesia di Blake un altro punto legame con questa pittura visionaria che può anche essere contemporanea o che comunque viene riapprezzata dai ragazzi queste tematiche vengono apprezzate dai ragazzi e il simbolismo li affascina molto usando un linguaggio come la street art ecco la pittura di paesaggio sicuramente non può che non vedere come protagonista Constable qui vi è l'immagine di The Haywayne che è un dipinto famosissimo del pittore il carro da fieno che però in verità ha un titolo che è stato pensato da coniato da un amico Fisher il titolo originario era Landscape Noon del 1821 e queste sono le parole di Constable il grande difetto del giorno d'oggi è la bravura il tentativo di fare qualcosa al di là del vero il suono dell'acqua che scorre tra gli agini del mulino salici vecchie tavole marce pali fangose fabbriche di mattoni io amo queste cose allora già i colleghi hanno parlato del paesaggio del valore del paesaggio è chiaro che tra i grandi artisti che hanno hanno descritto amorevolmente il paesaggio inglese c'è Constable cresciuto nel Suffolk non può che amare ciò che aveva sotto gli occhi e lo dipinge in tantissimi sketches fatti ad olio per cui realizza moltissimi bozzetti e poi crea questo ampio dipinto in studio ma partendo dai bozzetti che è realizzato in loco perché numerosissimi saranno i bozzetti delle delle nuvole quindi il soggetto è il cielo ma pensate che rivoluzione la pittura di paesaggio come genere proprio il genere paesaggistico non era considerato nelle grandi accademie neanche in un primo momento dai borghesi committenti di opere di grande valore e invece con i grandi pittori Constable e Turner qui avviene una soprattutto con Turner avviene una vera e propria rivoluzione Constable sta realmente alla base di tutta quella pittura che non vuole essere dettagliata in modo infinitesimale ma vuole dare un'idea della della luce e dell'esperienza dell'esperienza emotiva che si fa in un luogo proprio perché il pittore stesso è legato a questa campagna inglese straordinaria come è legato al lavoro al lavoro che è più in questo caso tradizionale perché voi vedete sulla sinistra il mulino conosceva chi gestiva il mulino dove si lavorava il mais dove si appunto macinava il mais e la sua famiglia era proprietaria di questi mulini così come l'uomo che sul carro porta il fieno per darle a mangiare appunto agli animali un legame con il paesaggio rispetto all'età contemporanea è dato dalla land art anche questo è un'opera che molti di miei studenti cioè è un artista scusate che molti di miei studenti hanno visto su instagram che grazie a questi affreschi realizzati sull'erba con vernice naturale biodegradabile al 100% vuole dare un messaggio strettamente correlato al paesaggio quindi l'uomo in rapporto al paesaggio il paesaggio svizzero dove lui abita nella svizzera francese suscita in safe proprio un come dire un'emozione un sentimento che è umano in questo caso questa piccola ragazzina seduta covacciata sull'erba che è come se avesse appena finito di disegnare questo grande abbraccio questo grande scusate girotondo di piccoli bambini stilizzati con uno sguardo che vada oltre la crisi quindi oltre all'isolamento di questi mesi ma che guardi in modo positivo al futuro per concludere Turner è l'altro pittore romantico che dà spazio all'esperienza certo è fortissimo il suo legame con la pittura tradizionale e in particolare con Claude Lorraine ma i suoi temi chiaramente di natura grandiosa romantica legata al sublime e burche si vedono in dipinti come appunto l'incendio della Camera dell'Ori dei Comuni che vi citavo prima del 1834 ciò che lo attira che attira il pittore è questo grandioso incendio la forza della natura l'uomo piccolo cioè Turner stesso sale sulla sua barchetta con i propri allievi si avvicina all'incendio che lo attrae al tempo stesso scatena in lui timore ma anche lui con numerosi bozzetti in questo caso acquerelli non può che sfidare la bellezza di questa natura che provoca che provoca interesse curiosità ed emozione dove protagonista è assolutamente la luce come il protagonista è ancora la luce nel fighting temerare il temerare viene portato viene ormai trainato verso la demolizione è stato venduto tutto il prezioso legno di quercia con cui è stato costruito viene portato da come vedete un'imbarcazione a motore quindi a vapore verso la fine verso il tramonto che è fantastico visto dal vero poi c'è un video il link di un video della National Gallery che illustra nei dettagli il dipinto dove si può vedere questa pittura materica che dà vita a questo tramonto intensissimo e ancora una volta coinvolgente travolgente chiaramente un tramonto da tutti i punti di vista e che porta sempre verso il legame di tradizione e innovazione solo vi accenno a Banksy e alla soluzione ideata a Venezia che qui è curiosa e fantastica e i ragazzi su Instagram mi hanno visto caricare questo video prima di me e mi hanno detto proprio guardi in modo provocatorio Banksy dice la vera arte quella della biennale veneziana io non ci sono io sono fuori un altro ancora una mossa verso l'innovazione cosa ci dice l'arte contemporanea e le domande dei ragazzi sono molteplici chi dà valore un'opera d'arte cosa dà valore un'opera d'arte e che valore ha appunto l'individuo le scelte di un individuo in questo caso Banksy e le soluzioni di Banksy sono veramente travolgenti ancora una volta un linguaggio particolarissimo quindi l'opera d'arte è il video l'opera d'arte sono questi dipinti all'interno del video e in questi dipinti si vede la mostruosità della nave da crociera che quasi entra nella Duna Veneta e che spazio lascia all'arte tradizionale e ultimissimo finiamo quindi col tema del treno ancora Turner e ancora avevamo parlato di Bunel per cui il ponte che vedete è il ponte di Maidened progettato appunto da questo ingegnere grazie allo scorcio prospettico perfetto ideato da Turner perché lui insegnava anche prospettiva viene messo in relazione con l'altro ponte che univa Londra e che portava poi in direzione di Bristol ecco Turner non si oppone alla novità anzi in Rain, Steam e Speed sembrerebbe che certo il sublime ancora dato siamo ormai nel 44 ancora dato dalla pioggia dalla natura ma anche dal vapore e dalla velocità questa velocità questa velocità che viene effettivamente ad assumere un interessante cioè 60 mili orari lungo questo ponte questo permette di portare a nuove esperienze altrettanto sublimi come noi le affronteremo e allora anche qui muovere i ragazzi su questo aspetto che cosa è per loro sublime e se è dato dalla natura o è dato dalla tecnologia e cosa ha dato soddisfazione e come le due cose possono entrare in conflitto ecco ho finito la carrellatura spero che di essere riuscita a comunicare insomma un po' di spunti di lavoro suggerimenti allora eccoci di nuovo qui tutti e quattro io vi ringrazio tantissimo perché avete l'intenzione di questo di questo webinar era una una presentazione che a partire da un tempo dal punto di vista della letteratura inglese e di lingua inglese è infinito e dare spunti di apertura che sono appunto spunti legati a paesaggio spunti dati a sentimenti spunti dati a tecniche letterarie percorsi meno conosciuti e trovo un lavoro che è stato appunto molto ricco e molto di ispirazione che aveva l'intenzione credo che ci siamo riusciti molto bene quindi ringrazio Andrea Chiara e Silvia a dare dei percorsi possibili e delle idee per magari fronte letteratura inglese quindi fronte insegnanti di lingue aprirvi ad un lavoro con i vostri colleghi che dal punto di vista del patrimonio ricordiamo che è uno dei temi dell'educazione civica per esempio o appunto dal punto di vista della capacità che debbono arrivare ad avere i ragazzi nel comparare spunti periodi nell'essere in grado di riportare verso l'attualità quello che sentono e ascoltano a scuola ci sembra appunto una proposta una proposta che vi lascia liberi e curiosi mi auguro e anche e anche diciamo ben instradati rispetto al tentativo di lavorare in una chiave interdisciplinare le slide saranno a vostra disposizione quindi saranno per voi ci auguriamo secondo me si traccia traccia appunto di volontà di lavoro da ripercorrere il lavoro su Disney insomma tutto quanto il lavoro che di inquadramento storico che invece Andrea vi ha proposto e il pandan artistico che appunto Chiara vi ha offerto e proposto ci auguriamo per voi spunti di buon lavoro e quindi io ringrazio i miei tre compagni di questa sera spero di rivederli credo che ci sarà di nuovo un percorso di lavoro interdisciplinare sulle esposizioni universali più avanti se ben ricordo ringrazio tutti voi per l'attenzione e insomma vi abbiamo tenuti con noi un pochino più a lungo ma insomma siamo stati molto contenti vi ringraziamo di esserci stati fino alla fine e io ringrazio i miei tre prof come informato di Silvia perché sono stati veramente molto di ispirazione grazie a tutti arrivederci 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 a